Giù, giù, giù. La caduta non avrebbe mai avuto fine. Mi chiedo quanti chilometri sono caduti a quest'ora, disse ad alta voce. Devo essermi avvicinata al centro della terra. Vediamo, sarebbero 4.000 miglia, credo. Giù, 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 giù. La caduta non avrebbe mai avuto fine. Mi chiedo quanti chilometri sono caduti a quest'ora, disse ad alta voce. Vorremmo essermi avvicinata al centro della terra. Vediamo, sarebbero 4.000 miglia, credo. Giù, 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 giù. La caduta non avrebbe mai avuto avuto fine. Mi chiedo quanti chilometri sono caduti a quest'ora, disse ad alta voce. Devo essermi avvicinata al centro della terra. Vediamo, vediamo, sarebbero 4.000 miglia, credo. Giù, 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 giù. La caduta non avrebbe mai avuto fine. Mi chiedo di dire avanti a due ombre di risultato a quest'ora, disse ad alta voce. Devo essermi avvicinata al centro della terra. Vediamo, sarebbero 4.000 miglia, credo. giù, 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 giù. La caduta non avrebbe mai avuto fine. Mi chiedo di dire avanti a due ombre di risultato a quest'ora, disse ad alta voce. Devo essermi avvicinata al centro della terra. Vediamo, sarebbero 4.000 miglia, credo. Giù, 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 giù. Giù, 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 giù. La caduta non avrebbe mai avuto fine. Mi chiedo di dire avanti a due ombre di risultato a quest'ora, di risultato a quest'ora. Vediamo, sarebbero 4.000 miglia, credo. Giù, 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 giù. La caduta non avrebbe mai avuto fine. La caduta non avrebbe mai avuto fine. Mi chiedo di dire avanti a due ombre di risultato a quest'ora, di risultato a quest'ora, di risultato a quest'ora, di risultato a quest'ora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.